Allora, vorrei mangiare sano, ma diciamoci la verità, chi ha voglia la sera di prepararsi il pranzo per il giorno seguente? Il vero problema di chi lavora tante ore al giorno, tutti i giorni, è il tempo. Le persone sono sempre di corsa e non hanno neanche il tempo di andare in bagno, figurarsi se il loro primo pensiero è quello di prepararsi il pranzo per il giorno dopo. È la tanta agonizzata dieta che tutti vorrebbero seguire, ma cui nessuno riesce a stare dietro? Che fine fa? Le opzioni adottate sono due, o ci si prepara il pasto per il giorno dopo, ma d'altronde chi lo fa, o si va al bar vicino, rischiando di mangiare male e a questo punto va di dieta. O si fa a mangiare salutare senza spendere neanche un minuto a cucinare. È per questo che abbiamo pensato a Speed It. Per i lavoratori con poco tempo, che hanno bisogno di un pasto veloce, Speed It è un e-commerce che offre pasti già pronti, veloci, sani e sicuri, che vengono consegnati in appositi locker, presenti nel nostro luogo di consumazione. La navigazione all'interno della nostra e-commerce è estremamente rapida e altamente proibile, perché abbiamo pochi piatti selezionati, ma estremamente mirati per chi lavora. Le specifiche dei piatti sono esposte in maniera chiara e sintetica, per non far perdere tempo prezioso. Noi non vendiamo solamente un piatto pronto e confezionato, vogliamo che il cliente si fidi al 100% di quello che mangia. Il menu che proponiamo presenta solamente 6 piatti, che cambiano ogni due settimane in base alla stagionalità degli ingredienti. In questo modo noi offriamo ai clienti un pranzo completo e salutare, permettendo loro di mantenere una dieta equilibrata e al contempo di variarla. Gli ingredienti selezionati sono esclusivamente di stagione e provengono da produttori locali per garantire la qualità e la tracciabilità. Inoltre il menu è per tutti, perché teniamo in considerazione le intolleranze alimentari, a cui sempre più persone purtroppo sono soggette. Spichita a cuore la sostenibilità, non solo proponendo un menu a chilometro zero, ma si prende cura dell'ambiente anche attraverso il packaging, che è funzionale e sostenibile allo stesso tempo. Gli ingredienti sono esposti in maniera chiara ed evidente, in modo tale che i nostri clienti vedano subito cosa hanno ordinato. Solitamente i lunghi tempi di attesa aumentano lo stress e rovinano la pausa franzo, che dovrebbe essere solitamente un fondamentale momento di stacco fisico e mentale. Spichit consente, attraverso un sistema di prenotazione online facile e veloce, o grazie alle pratiche vending machine, di abbattere drasticamente questi tempi di attesa, di preparazione e di consumazione del pasto stesso, per avere così appunto più tempo libero e godersi al meglio lo stacco lavorativo. Quindi, a differenza dei classici e-commerce che ci sono già di pasti pronti, Spichit mette a disposizione un luogo di ritrovo in cui il cliente si reca non solo per ritirare il proprio pasto, ma dove gli viene anche offerta la possibilità di sedersi ad una tavolata di persone che condividono i suoi stessi interessi e con cui potrà conversare. Quindi, cosa ha in più il nostro luogo rispetto a una qualsiasi messa aziendale? Quante volte ci è successo di desiderare follemente di parlare di qualcosa che ci appassiona, ma di non farlo mai perché i nostri amici o i nostri colleghi non sono minimamente interessati? Com'è che si può soddisfare questo desiderio presente nelle persone estremamente impegnate a livello lavorativo e che vedono la pausa pranzo come unico momento di sfogo e di svago dallo stress quotidiano? Spichit dà la possibilità di incontrare e di conversare con persone che hanno le tue stesse passioni. L'osteria senza oste dei laboratori. Ritiri il tuo pasto, ti siedi con chi vuoi e conversi con chi vuoi. Spichit va oltre il semplice concetto di e-commerce superando la comune idea di negozio online perché appunto il ritiro del pasto avviene solitamente negli appositi locali collocati in zone strategiche della città e quindi i nostri clienti possono scegliere se ritirare il pasto e tornare in ufficio oppure rimanere per consumare il proprio pranzo e magari fare due chiacchie. e in questo modo Spichit supera le barriere dell'online appunto concretizzando il proprio servizio in un luogo confortevole ed è per questo che vogliamo offrire un'esperienza di pausa pranzo completamente diversa. In questa planimetria vogliamo mostrare come abbiamo pensato la disposizione degli spazi interni del nostro locale. Ci sono due stanze principali, in una stanza le persone possono svolgere la propria pausa pranzo in completa tranquillità, mentre nell'altra stanza le persone si siedono ai tavoli che sono divisi per argomenti scelti, quindi possono essere musica, politica, arte, che sono visualizzabili sia attraverso l'app sia un'insegna digitale esterna al locale stesso. In quest'altra planimetria, come si può vedere dalla leggenda, il rosso indica le vending machine, l'arancione i microonde e il verde i food locker per i clienti abituali. L'entrata principale porta direttamente alla sala per la pausa pranzo dedicata a chi vuole passare una pausa pranzo tranquillamente. Per quanto riguarda gli interni degli spazi, presentano uno stile caratteristico e confortevole in modo tale che il cliente si possa sentire completamente a proprio agio. In questo modo si differenzia da un qualsiasi tipo di H24. Per evitare i consumi eccessivi di CO2 abbiamo ridotto i trasporti. Le consegne dell'ordinazione arrivano direttamente nei luoghi fisici prestabiliti. Così facendo ammortizziamo il via vai superfluo che si creerebbe nelle consegne porta a porta. Attraverso il sistema di pagamento NFC puntiamo a eliminare la moneta. Tutti i pagamenti verranno effettuati mediante l'app sia online che in logo. Quindi, rispetto alle altre e-commerce, abbiamo eliminato la personalizzazione per far risparmiare tempo a chi lavora. Rispetto alle altre e-commerce abbiamo ridotto drasticamente la varietà d'offerta. Noi proponiamo sei piatti diversi che variano ogni due settimane. Rispetto alle altre e-commerce abbiamo reso il sito estremamente facile e intuitivo da usare per far risaltare la qualità e la tracciabilità dei nostri sei piatti. Ma soprattutto, rispetto alle altre e-commerce, abbiamo creato un social table per chi lavora. Non è solamente un sito, è uno spazio di condivisione del pranzo e di interessi. Con Speakit impieghi meno tempo a scegliere cosa mangiare e ne dedichi di più a creare legami. Quindi, parla come mangi, no? Speakit, per chi non ha neanche il tempo di fare la pipì, ma ha voglia di parlare di Magritte. E vi ringraziamo da parte di tutto il nostro team. Grazie per l'attenzione. Grazie dell'ascolto. Grazie per l'attenzione. Grazie per l'attenzione. Grazie per l'attenzione. Grazie a tutti.